Un progetto nuovo, innovativo, nell'insieme diciamo, perché si parla di fare beneficenza però io personalmente sono sempre stato molto attento al discorso del sociale anche se poi per motivi lavorativi ovviamente la punchline è la base qui invece ho voluto affrontare il tema proprio dei senza tetto, di quelli che hanno difficoltà di arrivare a fine mese e dopo una ricerca ho scelto l'associazione Pane Quotidiano perché era l'unica che a Milano presenta ovviamente insomma sul territorio, era l'unica associazione che permette una certa dignità anche a chi va da loro a fare il cibo Hip Hop TV in onda su Sky, canale 720 e in free streaming su tutti i device su live stream.com slash hip hop tv slash live